Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Anita's Stories. In questo video vi farò vedere come fare la mia visione del crunchy slime, quindi dello slime che fa anche quel rumore tipico, un po' crunchy, quindi un po' scoppiettante diciamo. Questo è un video rilassante ASMR, quindi per questo motivo ho tolto la musica e ho lasciato i suoni, quindi spero tanto che vi rilasserete assieme a me e che questo video vi piaccia. Ho iniziato utilizzando la colla trasparente, se volete potete anche usare la colla normale, ma penso che con la colla trasparente sia più carino l'effetto. E ora sto mettendo dell'acqua con del bicarbonato di sodio sciolto dentro. Perché l'ho sciolto dentro? Perché se lo mettete direttamente può rimanere appunto bianco in mezzo allo slime trasparente. In più l'acqua fa in modo che si schierisca più in fretta. Dopodiché sto aggiungendo il liquido per lenti a contatto. E iniziate a mescolare finché non vedete che inizia a solidificarsi. Cercate di mescolare molto piano così non si formano troppe bolle. Una volta che avete fatto lo slime trasparente, se volete che si schiarifichi completamente, non so se dice schiarifichi, se volete che insomma le bolle vadano via, dovete metterlo in un recipiente in cui non passa aria. Quindi diciamo sotto vuoto. Io infatti uso questo recipiente con la ventosa, così sono sicura che non passa aria. E dovete lasciarlo per un po' riposare. Più tempo lo lasciate, più le bolle andranno via completamente. Io l'ho lasciato solo durante la notte. Ed eccolo qua, come vedete si è schiarito. Non del tutto perché non l'ho lasciato per moltissimo tempo. E potete appunto mettere lo slime trasparente dentro, potete utilizzare delle perline o delle palline, insomma quello che volete. Iniziate a mischiarlo bene. Iniziate a mischiare. 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 cercate appunto di fare in modo che la colla prenda appunto tutte le perline, tutte le palline dopodiché l'ho messa in una scatolina trasparente, così si va bene allora in realtà ho fatto un errore, avrei dovuto micchiare le palline mentre appunto lo slime veniva creato invece di aspettare che si schiarisse perché in questo modo vengono incorporate meglio le palline altrimenti rischiate che si possano staccare, quindi incorporate le palline mentre create lo slime le palline e il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora saluto Tumblr Ima che ha fatto questi bellissimi fermacarte a forma di cuore, Magic Slime che ha fatto il Butter Slime, Fla0Y bravissimi, il cane dietro bellissimo, Sara Di Flauro ha fatto lo slime bravissima, Giulia Ferragni il Butter Slime bravissima. Ragazzi continuate a mandarmeli su Instagram con la hashtag Anita Stories che siete bravissimi. E passiamo ora ai migliori commenti della settimana. Saluto Giuliana Giuli, Noemi Remix, Kia Galli, Tortellinos, Angelica Giuliana e Giulia Di Tingo. Grazie mille per i vostri commenti carinissimi su Instagram. Saluto inoltre Sugar Doll che mi ha lasciato questo commento bellissimo. Chiara Galli, che carina, grazie mille Chiara. E Caroline Kawaii, che carinissima, mi ha detto se porto tutti voi in vacanza, certo, assolutamente, vi porterei tutti. E Elba, carinissima, le piacciono i video ASMR, spero le piacere anche questo. E saluto anche Clis Laucr che ha scritto questo bellissimo commento riguardo dei miei video ASMR, un commento molto carino e molto intelligente. Ti ringrazio tantissimo e spero che anche questo video ASMR ti sia piaciuto.